TASHA E FILIPPE Spesso ti faccio vedere io! Ma voi siete belle! Potreste trovare un amante subito con uno schiocco di dita! Forse allora bisogna fare uno schiocco più forte! E il sesso? Beh, ho chiuso bottega da così tanto tempo che non ricordo dove ho messo la chiave! È vero che noi non siamo proprio bollenti! Ma cosa credete, amiche mie? Bisogna darsi da fare! Mettersi in mostra, rifarsi il necessario, è quasi un lavoro! Ma esci, non lo so, vai su internet, incontra gente e devi fare uno sforzo! Perché tu esci? Beh... E se non ci siamo sposati è soltanto perché io o perché... Perché non te l'ha mai chiesto! E anche a me l'ha mai chiesto e ci penso ancora, ci penso ancora e non ce la faccio più! È per questo che voglio andare a questo cazzo di matrimonio per vedere la faccia di quella cui Filippo dirà sì! Ma insomma, piantatela, c'è il sole, c'è il mare, divertitevi! Che succede al vostro carro? Sì, è stato molto gentile per amarti! Abbiamo bisogno di un uomo per la macchina! Beh, allora mi dovrò rimorchiare! Io vengo con te! Ditemi che sto sognando! Non ci credo, è uno scherzo! È lei che si sposa con Filippo?